Libertà e relazione. Cosa hanno in comune questi due termini? Sembrano molto diversi, addirittura concetti proprio opposti. La persona libera è una persona che non ha legami, che non ha obblighi, mentre la persona in relazione è una persona che ha dei doveri, che in qualche modo si è impegnata a compiere qualcosa. In realtà c'è una particolare affinità, adesso lo vediamo. Cominciamo intanto da relazione. Relazione viene dal latino referre, cioè riferire, riportare. Essere in relazione con qualcuno significa riportare qualcosa, cioè portare avanti una comunicazione, una narrazione, un discorso. Qualunque persona con cui siamo in relazione è una persona con cui portiamo avanti un discorso e anche dei progetti. Quindi non si tratta tanto di obblighi e impegni, ma di qualcosa che ci supera e che va oltre noi, oltre alle nostre individualità c'è qualcos'altro che noi portiamo avanti o qualcosa che ci scambiamo. Secondo il filosofo coreano Byung-Chul Han oggi in realtà siamo quasi costretti a dirci liberi, a dover dimostrare di essere liberi e quindi la libertà diventa quasi una costrizione e soprattutto è una libertà tra, una libertà di scelta tra opzioni, ma non è davvero una libertà di, cioè una libertà di fare o non fare qualcosa. Soprattutto un tipo di libertà che è totalmente slegata dalla dimensione sociale è una libertà che non soddisfa un bisogno enorme, un nutrimento essenziale dell'essere umano, cioè il bisogno di condivisione. Ecco che ritorna alla relazione, perché in realtà è vero che molto spesso desideriamo di essere liberi, di non avere doveri, di non dover rispondere e riferire niente a nessuno. Però tutto questo in genere dura poco, perché come esseri umani abbiamo bisogno di socialità, abbiamo bisogno di relazione e la vera libertà come la vera felicità forse è vera solo se condivisa. Ecco che le due cose si collegano. Allora veniamo all'esercizio di questo video. È un esercizio che anche questa volta ti consigliamo di fare su carta perché rende tutto molto più chiaro. Inizia dalla relazione, cerca di ricapitolare le relazioni più significative che hai in questo momento della tua vita e di scrivere come hanno potenziato la tua libertà, la tua libertà di scelta, la tua libertà di. Poi su un altro foglio esercizio sulla libertà, la differenza tra libertà di e libertà tra. Quindi cerca di capire cosa sei libera davvero di fare o di non fare e cosa invece è di solito una libertà di scelta tra opzioni, ma che diventa in realtà a volte quasi una costrizione. Questi sono i piccoli esercizi di questo video e alla prossima!